I have a new life to be I have organized an event that is a very important event GK, which is a brand for whom I am testimonian So it is the best place to stay a little at home and to celebrate with the owners who are here From the sport to the fashion, how will this step be? We will see you as a model on the passerelle It is not a step, it is natural It is natural People follow you, you look for it So you do it volentieri Especially for a brand like this GK, which is an avant-garde, young and sportive So it is the number one in the sector So you have a brand that is devoted to young What do you propose for young people? I believe We have a marketing director here next to you Vincenzo Vincenzo Però io credo che non è solo giovane Riesce a prendere una fascia di età molto varia Da ragazzi ai meno giovani agli sportivi ai casual Quindi credo che sia un prodotto totalmente a tutto tondo, completo Rivaldi comunque a tanti Allora Vincenzo ciao Allora tu essendo direttore marketing Parlaci un po' della GK Sì allora la GK è un'azienda, come dice Aldo Giovanissima, nata appena due anni fa Ma che si pone già come leader nel settore dell'abbigliamento giovane Casual, sportivo E non solo giovane giustamente Perché comunque abbraccia una fascia di età che va dai 20 ai 30 E magari anche Anche qualcosa di più aggiungo Esatto E già abbiamo consolidato le nostre posizioni sul mercato E speriamo di diventare nell'arco di poche stagioni Ancora più presenti di quello che siamo Anche grazie alla presenza di Aldo Che comunque rappresenta sicuramente il nostro target ideale di riferimento E sicuramente vincente come figura di ragazzo che vesse GK giustamente Io vi ringrazio Complimenti ho visto il catalogo Bellissimo Vieni bene Complimenti Ci avevamo messo molte energie per farlo Quindi mi raccomando A chi non piace Li tagliamo la testa Allora buon divertimento qui alla Balcaccina Grazie anche a voi Grazie a te Grazie, ciao Grazie mille